Ciao, oggi vedremo insieme la maglia del Milan, la prima maglia per la stagione 22 e 23, cioè la prossima stagione in edizione FAN. Nella nuova maglia home del Milan 22 e 23 è visibile un cambio di tonalità, o meglio, di struttura dei colori della maglia rossonera. La maglia è ovviamente a strisce verticali, come da tradizione, ma posta in maniera diversa rispetto a quelle dell'ultima annata. Il colore predominante sarà il nero, anziché il rosso, come nel 21-22. Le strisce tornano alla loro forma classica e dimensione omogenea, mentre nell'ultima e fortunata annata avevano consistenze diverse, passando da dimensioni più sottili ad altre maggiormente allargate. Vedete qui in alto la recensione. Il dettaglio che fa impazzire i tifosi è il lato della manica tricolore, con il richiamo alla bandiera d'Italia, un'idea di puma che sarebbe stata adottata a prescindere dalla vittoria dello scudetto. Cosa ne pensate? Io ero un po' combattuto e devo dire la verità all'inizio mi piaceva più quella dell'anno scorso, ma ora mi sono innamorato di questa maglia e secondo me nella mia classifica questa prende 4 stelle. Veramente fatta molto bene, con dei dettagli molto belli, come il tricolore, le cuciture non danno fastidio. Un rapporto qualità prezzo veramente incredibile e trovate qua su in alto il costo, come vedete, veramente bassissimo. Vi ricordo che qua giù in basso trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e peraltro dei link per ottenere un buono, un buono di 5 dollari da poter utilizzare per acquistare quello che volete, quindi il costo diminuisce ulteriormente. Ora vi lascio, però prima di farlo vi prego di poter regalarci un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.